Perché Bitcoin e le criptovalute stanno scendendo? Questa domanda è una domanda ovvia ragazzi, però allo stesso tempo interessante anche da farsi perché in realtà questa crisi legata al virus che sta in questo momento mettendo al tappeto tutte le economie mondiali perché abbiamo visto che non è più soltanto un fenomeno italiano, non è più soltanto un fenomeno cinese ma è bensì un fenomeno mondiale, quindi questo fenomeno sta mettendo al tappeto tutta l'economia reale ragazzi, l'economia reale significa quella basata sulla produzione perché il distanziamento sociale come unica misura di stop alla diffusione del virus ha come conseguenza lo stop alle attività produttive e quindi il PIL ragazzi, crolla il PIL e di conseguenza la ricchezza di ognuno di noi nell'economia reale ha un senso ragionare con questi crash che stiamo vedendo giorno dopo giorno ma nell'economia, chiamiamola così ragazzi, virtuale, un po' più virtuale quella relativa alle criptovalute per quale motivo sta avvenendo questo crash? in questo video cerchiamo di rispondere a questa domanda bene intanto benvenuti Mauro Caimi qui con voi oggi parliamo di questo argomento e già da subito ragazzi vi chiedo di lasciarmi un mi piace su questi video e condividerlo dove lo ritenete opportuno ma poi mi interessa sapere la vostra opinione al riguardo perché Bitcoin e le criptovalute stanno crashando in un contesto che oggettivamente non tocca le criptovalute neanche per un po' rispondetemi a questa domanda con quello che voi pensate nei commenti del video questi sono momenti concitati, sono momenti in cui si fa la storia è importante anche confrontarci quindi è importante la vostra opinione ragazzi lasciatemi tutto nei commenti facciamo un po' un escursus del punto della situazione le criptovalute e Bitcoin ragazzi cosa fanno e perché sono state create in sostanza è un finanziamento di una tecnologia sottostante che è quella della blockchain e di una serie di attività estremamente evolute da un punto di vista tecnologico che hanno dato vita a una serie di criptovalute che sono in sostanza ragazzi un metodo alternativo di finanziare questa evoluzione tecnologica bene allora se io faccio un riferimento per esempio prendiamo il re Bitcoin, la blockchain in questo momento ragazzi la struttura fondamentale della blockchain cioè il servizio a cui assolve la blockchain o dovrebbe assolvere negli anni a venire è mutato questa è la domanda che mi sto facendo non è mutato assolutamente niente ragazzi perché intanto una pausa dell'economia reale non tocca la blockchain perché anzi forse ragazzi la facilita perché nel momento in cui l'economia reale si mette in pausa come in questo momento a causa di un'epidemia in sostanza da anche più tempo alla blockchain di evolversi e di modificarsi da un punto di vista anche tecnologico quindi sappiamo che il problema di fondo è l'assorbimento di questa tecnologia nel mondo reale però da un punto di vista di tecnologia, struttura di codici informatici questa crisi, questa recessione attuale che cosa cambia di queste fondamenta? nulla ragazzi assolutamente non cambia nulla allora il motivo del perché Bitcoin sta crashando io ho due tre idee ve le dico alla fine del video sicuramente non può essere legato a un problema di natura fondamentale Bitcoin doveva assolvere ad una funzione che doveva essere tecnicamente quella di un bene rifugio da catastrofi nel sistema reale moneta alternativa dall'ipersvalutazione contraria all'ipersvalutazione di quelli che sono i mercati tradizionali e abbiamo visto quello che è successo questa notte che ricordi io ragazzi da quando seguo il mercato vedere la Federal Reserve, quindi la Fed in panico, completo, totale come ieri notte, domenica abbassare, azzerare i tassi di un punto percentuale l'unica cosa che poteva fare è immediatamente immettere un quantitative easing significa vedere la più grande istituzione economica del mondo quella che dovrebbe mantenere lo status quo dovrebbe essere un'istituzione di riferimento quando gli altri sono in panico significato vederla in estremo panico ragazzi e badate anche che una istituzione come la Federal Reserve non va in panico ragazzi quindi questo è un atteggiamento di estrema velocità nel reagire perché evidentemente sapevano già quello che sarebbe successo questa settimana ragazzi quindi hanno creato un tappeto gigantesco vi ricordate quei famosi film quando io preferisco ricordare quelli comici quando c'è il tipo che si deve buttare che si vuole buttare dalla finestra e mettono il tappeto la stessa cosa ragazzi questo è un tappeto per i mercati perché stanno dicendo questi qui io vi ho messo un tappeto quando crolliamo crolliamo a un punto tale da non far fallire tutta l'economia questo è il concetto della Federal Reserve ma se immette questa grande liquidità se mi abbassa i tassi ragazzi cosa fa in sostanza? svaluta il dollaro lo sta svalutando ancora una volta per l'ennesima volta fanno in continuazione questo svalutano, svalutano questa moneta allora qual è la moneta che non si può svalutare ragazzi? qual è nel sistema economico una moneta che non si può svalutare? è Bitcoin quindi se esiste questa svalutazione massiccia allora dovevamo vedere una reazione oggi di Bitcoin e delle criptovalute in generale positiva l'avete vista questa reazione? oggi assolutamente no perché ieri dopo l'annuncio della Federal Reserve Bitcoin fa un'impennata di volatilità incredibile e tocca addirittura 6.000 dollari in pochissimi minuti dopodiché ritraccia vertiginosamente e ritorna ai minimi di ieri e questa mattina ci fa un bel meno 16 con punte anche di meno 20 ragazzi quindi crasha due volte rispetto alle borse come sempre sta accadendo perché l'oscillazione di Bitcoin e delle criptovalute di Bitcoin è due volte ai mercati finanziari delle criptovalute è 3-4 volte ragazzi quindi fate attenzione con questi strumenti perché insomma hanno la più grande volatilità che io ricordi nella storia e di aver visto insomma sui mercati però questa cosa va considerata allora dovevamo avere una reazione positiva e in effetti c'è stata la reazione positiva di Bitcoin perché subito dopo l'annuncio della Fed ha fatto la super candela up giusto? tutto corretto ma nello stesso momento poi la candela successiva è andata a crollare dopo 10 minuti immediatamente ciò significa che quell'app di Bitcoin è stato visto come un'occasione di vendita da molti retail da molte istituzioni e quant'altro nella Trading On Academy la mia Academy Premium ragazzi vi lascio i link in descrizione in descrizione del mio video trovate tutti i link che vi possono essere utili in questo momento abbiamo un indicatore abbiamo un costante monitoraggio delle whales delle balene di quello che fanno le criptovalute sulle criptovalute in generale ma su Bitcoin e abbiamo visto che in sostanza le balene tutto sommato ragazzi non hanno liquidato grandi posizioni sono sempre lì con i Bitcoin in pancia c'è anche da dire che le Big Whales non hanno neanche modo di liquidare queste posizioni perché magari moltissime balene quelli che hanno i wallet stracolmi di Bitcoin sono proprio gli exchange quindi liquidando le loro posizioni direbbero it's game over e quindi chiudono e andiamo tutti a casa perché ragazzi se le exchange non hanno copertura in questo momento fallisce il loro business e se ne vanno cioè ragazzi Bitcoin fa non ricordo se era intorno ai 5.300 6.000 5.300 4.600 nell'arco di qualche ora in sostanza durante la notte quindi è stato fatto probabilmente per la stragrande maggioranza dal panic selling dei retail degli investitori retail e qui torniamo ai due motivi che io penso siano la causa di questo crash delle criptovalute e di Bitcoin ragazzi e cioè il primo di tutti una situazione di panico totale da parte degli investitori retail e questo ragazzi è impossibile negarlo perché noi lo vediamo tutti i giorni questa cosa io stesso con le mie posizioni in hold quelle che non uso per fare trading e che non vendo ragazzi perché non vendo anche su questo ho un video da farvi vedere in questa settimana cercherò di farlo ragazzi quindi iscrivetevi al canale ci saranno tanti aggiornamenti in questi giorni anche perché sono in quarantena quindi è meglio aggiornarci è meglio fare cose positive e il panico c'è ragazzi quindi moltissimi usano queste situazioni per vendere in sostanza ragazzi secondo me il ribasso di bitcoin e delle criptovalute in questo momento è dettato dal panico degli investitori retail che hanno iniziato a vendere probabilmente la causa scatenante è stato quel meno 40% ragazzi che ha impanicato praticamente tutti perché era una delle più grandi flessioni che la storia dei mercati finanziari ricorda ed è anche significativo perché fa vedere quando non ci sono tappeti per bloccare i mercati cosa fa il mercato il mercato vi fa un 0 1000 in un secondo perché è il panico e le emozioni i mercati e le criptovalute probabilmente stanno crescendo ragazzi perché il panico e la paura si sente di più su questi mercati perché non ci sono le istituzioni dietro non c'è nessuno che può mettere questi tappeti come la federal reserve è questa il punto debole della famosa libertà che esiste nel sistema cripto o la accettiamo oppure non è un mercato per noi perché se vogliamo pensare che bitcoin possa fare 50.000 dollari domani allora nello stesso momento può azzerarsi il valore della cripto perché non c'è nessuno che lo controlla ragazzi quindi scatenando il panico sui mercati delle cripto probabilmente si è verificato questo discorso qui questo che vedete questo crash a cui stiamo assistendo e infine ragazzi l'altro motivo che penso sia importante da valutare per capire questo crash dei mercati delle criptovalute ma tra un po' ragazzi vi dirò anche un mio interrogativo e vi lascio con l'interrogativo in questo video perché poi ne parleremo in settimana comunque l'altro punto è questo molto di questo panico che ha scaturito questi ribassi sui mercati bitcoin e criptovalute è un panico indotto anche dalla paura che un exchange che un'istituzione creata in questo settore non riesca a sopravvivere a questo crash questo è vero ragazzi perché parliamo di un mercato piccolo parliamo di una struttura piccola parliamo anche di un problema ed è l'unico problema fondamentale in questo momento che io vedo ragazzi altrimenti questo ribasso è insensato totalmente insensato perché in questo momento il fondamentale che è toccato del settore blockchain è proprio la struttura del settore blockchain quindi l'exchange che è a capacità restitutoria riuscirà a restituire tutti quei soldi questo è anche il motivo ed è l'unico motivo fondamentale che ha indotto questo crash la paura che questa struttura non regga ragazzi è un po' come il terremoto avviene un terremoto io sono su un palazzo discreto che magari non dovrebbe subire questa fase però allo stesso tempo è piccolo non so se le fondamentale hanno fatte bene non mi fido ho visto tanti crash in questo momento e quindi diceva lo sa che c'è chiudo molti addirittura stanno togliendo ragazzi anche i bitcoin dagli exchange dai wallet però hanno paura che falliscono questo significa togliere liquidità agli exchange in ogni caso quindi voi dovete iniziare a ragionare anche che stiamo iniziando a togliere liquidità a queste strutture quindi a tutta la barca ragazzi un po' stiamo togliendole fondamente come iniziare a togliere tutto quello che c'è sotto e poi la barca inizia ad entrare l'acqua e può affondare ultimo motivo di natura fondamentale ve l'ho accennato all'inizio del video è quello legato invece al discorso che in un momento di crisi economica come questa di crisi ormai palesemente evidente recessione l'innovazione tecnologica ragazzi subisce un rallentamento e lo farà anche la blockchain però ragazzi questa cosa stride un po' perché è vero che la blockchain si rallenterà lo sviluppo però allo stesso tempo è anche l'unico settore che non viene toccato da un virus perché è digitale quindi è tutto creato diciamo a livello informatico è futuristico e ora vediamo in questo momento in questo contesto anche l'importanza di questo tipo di settore in questo momento ragazzi perché noi in Italia in quarantena in questo momento possiamo acquistare ancora qualche prodotto utilizzando l'e-commerce guardate che cosa significa in una situazione del genere anche questo tipo di servizi quindi questi sono i punti che secondo me sono alla base di questo crash del mercato delle criptovalute che dobbiamo tenere sott'occhio anche per capire ragazzi quello che avverrà e dobbiamo tenerli strettamente sott'occhio questi punti ragazzi perché poi una domanda ve la faccio e vi lascio con questa domanda se questa crisi se questo momento e questo crash dei mercati è dovuto esclusivamente ad un ribasso da panico quindi da paura se bitcoin inizia a fare un trend positivo di qualche giorno e diventa l'unico asset del mondo insieme a loro che non perde l'unico asset che diventa quasi tendenzialmente rifugio per la liquidità questa massa di liquidità ragazzi che la federal reserve sta buttando ovviamente la federal reserve no però poi arriva ai privati ragazzi potrebbe o no andare sul mercato cripto e se ci va che cosa succede? questa è la domanda se arriva e confluisce nel mercato delle criptovalute potrebbe essere la più grande buona notizia degli ultimi anni per questo settore ma al momento ragazzi non ci sta arrivando però mai dire mai vi lascio con questa domanda fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo nel prossimo video ciao